Il fornaio del Viale, tradizione, genuinità, qualità Panetteria, panini, focacce, biscotti, taralli, pasticceria secca e fresca e tanto altro ancora Salumeria, gastronomia, primi, secondi e contorni da gustare anche nella sala interna Prodotti tipici locali L'ingrediente principale per una sana cucina è l'amore per coloro per cui cuciniamo Il fornaio del Viale vi aspetta in Viale Europa 180, Talsano Taranto Sapremo prendervi per la gola